ed ecco ragazzi che incomincia il nostro viaggio partendo da parigi toccando new york una bella settimana e ci sposteremo a los angeles da los angeles andremo a las vegas per festeggiare la con i nomi dei viti di vittorio chapin dove abbiamo pensato di andare un po ad onolulu alle hawaii per stare 15 giorni e poi un'improvvisazione per stare altri 15 giorni a los angeles per poi ritornare a parigi e terminare così la nostra vacanza buona visione con telegaraggio e mareviaggi ed ecco ragazzi che inizia così il nostro viaggio che durerà 40 giorni in america partendo così da parigi salutiamo con grande affetto i nostri turisti e adesso voletevi in aereo questa man and mirror di michael jackson in versione chitarra acustica quindi siete pronti si parte e e e e e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.